42 anni di onorato lavoro nella tipografia alla moderna di Sulmona, un traguardo ragguardevole per Francesco Centofanti, originario di Prezza, che nella festa del lavoro è stato insignito dell'onorificenza della stella al merito del lavoro nell'auditorium della Biper dell'Aquila dal prefetto Giuseppe Di Nardi, che ha preseduto la cerimonia di consegna delle onorificenze a 22 lavoratori provenienti da ogni parte d'Abruzzo. Un riconoscimento doveroso per un lavoratore esemplare che ha mostrato dedizione e passione nel mestiere di tipografo. È un grande onore per il nostro comune, ha commentato Marianna Scoccia, consigliere regionale e sindaco di Prezza. Franco Centofanti mi lega un rapporto di stima e di amicizia da sempre, essendo perciò grande orgoglio per la meritata onorificenza ricevuta. La decorazione viene attribuita ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica per riconosciuti meriti di perizia e laboriosità e condotta morale. Ad accompagnare Centofanti all'Aquila, cerevice sindaco di Prezza, Concetta Marinucci.